Shannon Doherty è letteralmente distrutta per colpa di quel maledetto tumore che purtroppo da ormai in lo tempo la coinvolge la presa di Miran. Infatti anche lei stessa ammette che la ribito è letteralmente carata e è letteralmente distrutta dalla chemioterapia e dai farmaci che è costretta a barra pubblicata a prendere. Tra l'altro avrebbe addirittura aggiunto che il sesso non è più così bello. Mi chiedo come si faccia a fare sesso quando hai un tumore e magari si trova un tumore nel quarto stadio. Mi chiedo e vi chiedo chiaramente se qualche dottore o medico ancora mi risponderà sarò ben lieto di sapere come si fa a pensare al sesso quando si ha un tumore che forse potrebbe essere addirittura a quarto stadio e che potrebbe quindi portare alla morte che purtroppo ne soffre come nel caso di Speicher, cioè di Shannon Doherty. E' questa straordinaria e meravigliosa attrice stranina, sia un erro inglese o americana. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Utenti di Youtube mi raccomando iscrivetevi a cari. Questo video non vuoi avere la sua privacy ma fatemi sapere cosa ripeto.